Stare con PD e M5S è un po' complicato, ma è una necessità. Ma siamo destinati il prossimo anno a un governo di centrodestra guida Lega. Prepariamoci, noi vinceremo le politiche. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in videocollegamento con il seminario, FondiWare, una sfida per il Sud, organizzato a Palermo dall'eurodeputata Annalisa Tardino. Ai primi di dicembre sarò in Polonia che era brutta e cattiva fino alla settimana scorsa. E adesso, perché fa argine agli immigrati irregolari dalla Bielorussia, torna a essere un baluardo dell'Europa. Il leader del Carroccio ha quindi passato in rassegna anche i temi toccati nel corso del suo recente incontro con Draghi a Palazzo Chigi. Al Premier ha ricordato o detto di azzerare la burocrazia e di rivedere il codice degli appalti altrimenti i fondi comunitari del PNRR non saranno utilizzati. Basti pensare che per un appalto da 2,5 milioni occorrono tre anni. Va usato il modello Genova, lì dove occorrerà. Come era prevedibile, Salvini ha accolto l'occasione del convegno a Palermo per parlare anche delle elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo siciliano il prossimo anno. Noi ha avvertito a Palermo vogliamo vincere. E siccome fioccano i candidati del centro-destra, se non ci sarà una decisione saremo noi a continuare a proporre le primarie. Infine, una dura stoccata a Leo Luca Orlando, che di Salvini è uno dei più implacabili detrattori. Non stupisce perciò che oggi il leader della Lega gli abbia restituito pan per focaccia. Il sindaco di Palermo ha attaccato Salvini e è campione del mondo per inefficienza a risolvere i problemi dei cittadini. Il riferimento è all'emergenza rifiuti alle oltre mille ber accatastate nel cimitero della città. Si è costituito parte civile contro di me al processo Open Arms ha concluso e vuole riempire la città di clandestini.